coronavirus 504 nuovi positivi nelle marche parla l'assessore salta martini la nuova giunta regionale blocca il progetto dell'ospedale unico di muraglia centri commerciali chiusi nel weekend parlano i titolari delle attività annullata la 44esima edizione del festival cartoceto d'op l'intervista al sindaco martedì 10 novembre buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale l'informazione sul canale 633 come sapete siamo visibili in tutta la regione marche ma ci concentriamo in modo particolare sulla provincia di pesaro urbino e subito in apertura gli aggiornamenti relativi ai nuovi casi del coronavirus appunto nelle marche sempre in questo primo servizio potrete anche ascoltare le parole dell'assessore alla sanità filippo salta martini che ci illustra le misure prese e da prendere proprio per controllare il quadro epidemiologico della regione il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.608 tamponi 1425 nel percorso nuove diagnosi e 1183 nel percorso guariti i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 504 e di questi 70 casi provengono dalla provincia di pesaro urbino durante la seduta fiume sull'emergenza covid 19 del consiglio regionale che si è tenuta ieri l'assessore alla sanità filippo salta martini ha fornito il quadro complessivo della situazione sanitaria nelle marche sono state illustrate le misure di prevenzione e contrasto della pandemia messe in campo in questi giorni e i prossimi provvedimenti che la giunta regionale intende adottare abbiamo aumentato il numero dei tamponi da somministrare in via preventiva ai cittadini attualmente si viaggia su 2.000 tamponi al giorno abbiamo chiesto 5.000 tamponi di cui 2.500 antigenici rapidi poi abbiamo aumentato le pattuglie USCA unità speciali di continuità assistenziale quelli che fanno le visite domiciliari a questi ragazzi sono medici e un infermiere abbiamo acquistato nuovi scanner per la digitalizzazione sostanzialmente decografia toracica per impedire che i malati debbano recarsi negli ospedali poi abbiamo chiesto un unico protocollo di cure domiciliari un unico protocollo di cure cliniche ospedaliere con l'uso di nuove terapie tra i quali lo zono la clorossi clorichina e un aumento dell'impiego del plasma derivanti da soggetti che si sono guariti dal covid l'indice effettivo di valutazione della pericolosità delle patologie si vede dal numero dei ricoverati nelle terapie intensive perché è lì che si salva la vita quindi attualmente abbiamo la metà dei ricoverati 162 persone su 126 posti disponibili e naturalmente il problema delle case riposo deriva dal fatto che questa patologia il covid può aggravare sostanzialmente il quadro clinico dei pazienti da un minuto da un momento all'altro e l'avanzata età e probabilmente la compresenza di altre patologie può portare queste persone ad essere ricoverate nelle terapie intensive per questo abbiamo disposto che la cura sia eseguita non più dai medici di famiglia ma da specialisti del servizio sanitario da medici ospedalieri da infermieri ospedalieri con terapie ospedaliere io penso che di fronte a questa guerra dobbiamo unire le forze poi tutti potranno poi i partiti consiglieri svolgere le loro attività vero è però che il quadro è un quadro complesso derivante dall'ammancato acquisto di vaccini abbiamo comprato 500 mila vaccini in meno rispetto a quelli che ci servivano adesso il mercato non riesce a garantirli c'è una sottostima dei tamponi per l'accertamento del covid non sono stati banditi alcuni concorsi che potevano essere banditi diciamo che c'è tutto un sistema abbastanza farginoso che deve essere corretto soprattutto per la presenza di quattro aziende ospedaliere ognuna delle quali agisce sul mercato del lavoro quindi i medici e infermieri in modo autonomo. Ed ora passiamo a parlare dell'ospedale unico perché nella riunione di ieri la nuova maggioranza del consiglio regionale ha bloccato il progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico a Muraglia una misura in linea con le intenzioni del governatore e della giunta che puntano alla valorizzazione degli ospedali dell'entroterra alla quale però ha duramente replicato l'opposizione ma anche il primo cittadino pesarese chiedendo subito un incontro con il presidente acquaroli tra l'altro domani ricci sarà a roma al ministero della salute vediamo la seduta fiume sull'emergenza covid 19 del consiglio regionale ha segnato un passaggio importante per l'organizzazione della sanità regionale e della provincia pesarese dopo aver illustrato i provvedimenti presi e da prendere riguardanti la situazione epidemiologica nelle marche la nuova maggioranza ha sospeso il project financing destinato alla realizzazione del nuovo ospedale unico di Muraglia bloccando così il progetto portato avanti dalla giunta ceriscioli il nuovo governo regionale ha deciso dunque di puntare sulla ristrutturazione e valorizzazione delle strutture già esistenti nel territorio una decisione in linea con le premesse fatte dal governatore acquaroli il quale già durante la campagna elettorale aveva annunciato la volontà di puntare su una rete ospedaliera attenta e dislocata anche nell'entroterra la risoluzione di ieri è un primo passo fondamentale per dare quel segno di discontinuità che i cittadini marchigiani ci hanno chiesto sul tema sanitario ci hanno votato per questo e noi abbiamo subito nei primi consigli regionali utili abbiamo dato questa dimostrazione di di rispettare la parola data e di andare verso un una struttura sanitaria differente e la giunta ha dato in carico al all'assessore salta martini al sessore valdelli per infrastrutture a valutare tutte le ipotesi di di modernare di modificare le strutture esistenti oppure di creare nuove strutture ma ha bloccato in una maniera molto chiara il progetto dell'ospedale dell'ospedale unico la mia presenza in consiglio regionale lo specifico nella commissione sanità sarà assolutamente una garanzia per i cittadini di pesaro e urbino per cercare di garantire a tutti dalla costa all'entroterra al meglio il diritto alla salute che è un diritto costituzionalmente garantito dura la replica del primo cittadino pesarese il quale ha annunciato di aver già chiesto un incontro con il neogovernatore per discutere il blocco imposto alla realizzazione del progetto in tutta italia si ragiona di come aumentare gli investimenti pubblici sulla sanità e che cosa fa la nuova giunta regionale nelle marche prova a cancellare un investimento da 250 milioni sulla nuova struttura ospedaliera tra peso e refano della quale discutiamo da 30 anni è una cosa inaudita noi abbiamo bisogno di rafforzare sicuramente la sanità dell'entroterra magari attraverso le risorse del mes ma abbiamo bisogno di un ospedale innovativo moderno per tutti i cittadini della provincia di peso urbino perché chi non trova risposta qua non va pergola come qualcuno crede ma va in emilia romagna aumentando la mobilità passiva noi daremo battaglia non accettiamo un atteggiamento anti pesaro e anti provincia di peso urbino da parte degli eletti nel nostro territorio domani sarò il ministero della salute la prossima settimana chiesto un incontro urgente al presidente acquaroli ed è il momento di passare alla cronaca perché sono stati identificati due responsabili che nella mattinata del 5 novembre scorso nei pressi di viale trieste avevano aggredito e derubato un anziano l'uomo sottratto delle portafogli contenente documenti e banconote aveva raccontato in questura che poco prima del furto aveva effettuato un prelievo ad uno sportello bancomat ritirando 500 euro le indagini condotte dalla squadra mobile hanno permesso alle forze dell'ordine di risalire a due ragazzi giovanissimi residenti del posto gli agenti sono inoltre riusciti a recuperare parte della refurtiva che verrà dunque restituita alla vittima i due giovani sono stati accompagnati in carcere in attesa dell'udienza al termine della quale il gip di pesaro ha convalidato il fermo e la misura cautelare anche nella regione mar che è stato definito il progetto covid hotel due le strutture identificate per ogni provincia della regione che permetteranno di effettuare l'isolamento fiduciario in un ambiente diverso dalla propria abitazione o lontano dal proprio nucleo familiare vediamo questo prossimo servizio a cura di daniele romagna e simone celli dieci strutture disponibili in regione due per provincia sono i numeri che descrivono il progetto studiato anche nelle marche dei covid hotel il quale permetterà a tutti i soggetti che necessitano di effettuare l'isolamento fiduciario al di fuori della propria abitazione e del nucleo familiare di poter alloggiare in alcuni edifici selezionati in regione fondamentale oltre alla collaborazione tra albergatori ed ente regionale anche il contributo di federal alberghi conf commercio per l'individuazione delle strutture disponibili gli hotel candidati per far parte del progetto nella provincia di pesaro urbino risultano essere uno in zona mare nel pesarese mentre l'altro è l'hotel plaza di fano che è stato giudicato idoneo dall'asur dopo il sopralluogo effettuato negli ultimi giorni questo è un albergo non è un ospedale quindi alcune precauzioni che io effettivamente qui non tengo ma in ospedale bisogna averle insomma a livello di personale come si sta organizzando? diciamo il personale è richiesto un office completo 24 su 24 e poi ci saranno delle persone che sposteranno porteranno via dalle camere i rifiuti che loro magari accumuleranno durante la giornata quali servizi sono previsti per le persone che alloggeranno? i servizi sono ristorazione, colazione, pranzo e cena e pernotamento questa situazione quindi sta per iniziare poi appunto ci sarà un preavviso e per ora durerà fino a quando? previsto fino al 31 di dicembre del 2002, 2020 quante camere verranno destinate agli ospiti insomma del covid hotel? 16 camere occupate da una sola persona indipendentemente dalla capienza della camera quindi gli ospiti avranno chiaramente l'alloggio e il vitto per quanto riguarda il vitto come si sta organizzando? rivolgendo a quelle società che organizzano ristorazione per gli ospedali sa già come verranno serviti i pasti? devono essere consegnati fuori dalla porta e poi useranno loro come consumarli insomma e noi dobbiamo solo, anzi sono delegati a consegnare i rifiuti una volta ogni due giorni e il cambio della biancheria una volta ogni cinque giorni che però è delegato all'ospite cioè noi non c'entriamo niente noi dobbiamo prendere tutto da fuori dalla porta insomma non devono essere comunicazioni tra noi e loro e questa mattina abbiamo ripreso con le nostre telecamere alcune immagini che abbiamo proprio girato in via Solferino mentre stavano prendendo il via i lavori per eliminare le radici degli alberi posti al centro della careggiata che ormai da tempo avevano modificato il manto stradale di entrambe le corsie una problematica di cui ci eravamo occupati qualche settimana fa grazie alla segnalazione di un residente il quale ai nostri microfoni aveva raccontato i disagi che questa problematica creava la circolazione dei mezzi l'intervento partito oggi dunque servirà a riportare l'assetto stradale alla normalità e allora siamo felici che appunto l'amministrazione comunale è intervenuta per risolvere questo problema e probabilmente grazie anche ai nostri servizi e grazie alle vostre segnalazioni che siamo riusciti ad avere questa sistemazione allora vi ricordo di segnarvi il numero per le vostre segnalazioni 370-366-7210 per cercare appunto di migliorare le cose che non vanno bene adesso cambiamo argomento perché vi abbiamo raccontato in diverse edizioni del nostro telegiornale il malcontento registrato dalle categorie di lavoratori colpite dalle restrizioni dell'ultimo dpcm nel prossimo servizio abbiamo parlato con alcuni titolari di negozi che si trovano all'interno dei centri commerciali della nostra città che con l'entrata in vigore dell'ultimo decreto sono costretti a rimanere chiusi durante il fine settimana alle voci delle diverse categorie di lavoratori che con le restrizioni dell'ultimo dpcm sono nuovamente bloccate si aggiungono ora anche quelle dei titolari dei negozi situati all'interno dei centri commerciali il decreto prevede infatti la chiusura di queste strutture nei giorni festivi e prefestivi e con essi sono costretti ad abbassare le saracinesche anche tutte le attività situate al loro interno eccezione fatta per farmacie, parafarmacie, punti vendita di genere alimentari, tabaccherie ed edicole è una misura ingiusta in quanto veniamo penalizzati noi ma senza risolvere nessuna problematica perché se non vengono nel centro commerciale si riversano tutti nel centro creando assembramento in altri posti o anche in altre grandi strutture tipo ikea o quant'altro che rimangono aperte di conseguenza è una penalizzazione senza nessun risultato effettivo quindi si crea anche un diciamo una concorrenza che non è giusta nei nostri confronti quindi fuori aperto e qua è chiuso siamo attrezzati col gel con le mascherine col distanziamento facciamo entrare poche persone alla volta anche se non c'è bisogno perché tanto le persone in questo momento sono veramente poche che acquistano c'è più tensione c'è più paura soprattutto dalla fine di ottobre diciamo quando si è cominciato a riparlare di aumenti di casi di chiusure cose del genere ovviamente ero ottimista ma visto la prima settimana penso che almeno ero aperto col 20% ma sicuramente arriverò un 30% di calo di fatturato sicuramente per noi è un grosso danno per me c'è la paura c'è c'è stato anche prima secondo me ognuno deve essere un po più responsabile stare alla distanza tutto quanto anche all'aperto e fuori invece io come io ho paura di molti ragazzi giovani minoregni che poi noi qui invece dobbiamo lavorare come tutti i negozi di parrucchiere il fine settimana si concentrano la maggior parte dei nostri clienti poi noi abbiamo tanti professionisti quindi persone che durante la settimana lavorano e quindi loro faceva comodo venire il sabato e la domenica poi una cosa che ci dispiace che comunque il sabato restiamo chiusi mentre gli altri parrucchieri all'esterno lavorano quindi ci crea ancora più problemi ovvio siamo contenti che in confronto a prima adesso lavoriamo perché dobbiamo essere positivi però se riuscissimo a lavorare almeno il sabato ne saremo ancora più felici anche perché possiamo dare un servizio in più ai nostri clienti e il nostro lavoro andrebbe meglio ci fa piacere ovviamente che comunque anche i clienti riescono a venire durante la settimana però proprio perché noi ci siamo attenuti bene ai protocolli che ci hanno dato avremmo piacere di poter lavorare un pochino di più anche perché come dicevo prima avendo l'opportunità di dare dei giorni in più ai nostri clienti è ovvio che il lavoro aumenta quindi riusciamo anche a sopperire alle spese che abbiamo avuto in questi mesi a motivo di tutti i prodotti e tutte le cose che abbiamo dovuto prendere infatti noi abbiamo messo dei pannelli divisori appunto per far star tranquilli i nostri clienti abbiamo dei detergenti abbiamo tutto ciò che comunque c'è stato chiesto di fare anche di più noi andiamo per appuntamento le persone ci chiamano entra un certo numero di persone quindi non creiamo problemi anche all'interno del centro commerciale però ovviamente se il governo ha deciso così noi ci dobbiamo adeguare non ci rimane altra scelta ed ora ci spostiamo a monbaroccio perché il consigliere regionale della lega luca serfilippi ha deciso di rispondere al consigliere del pd andrea biancani in merito alla riapertura dell'rsa briciotti di monbaroccio serfilippi ha sottolineato come le accuse mosse da biancani sui ritardi legati all'apertura della struttura siano privi di fondamento vista la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria che la vecchia giunta regionale non ha svolto nei confronti dello stabile la speranza ha continuato il consigliere della lega è che grazie ai lavori tuttora in fase di svolgimento l'rsa possa tornare nuovamente attiva entro dicembre formare una comunità preparata a dare una risposta tempestiva dagli arresti cardio circolatori improvvisi questo è l'obiettivo dell'ultimo progetto presentato dall'associazione le strade di luca con il sostegno del comune di pesaro nei prossimi mesi le strade di luca con l'aiuto di croce rossa italiana e di altre realtà daranno il via a un percorso di formazione blsd gratuito le lezioni saranno tenute dal personale della croce rossa italiana di pesaro i 25 corsi gratuiti di blsd si svolgeranno a rotazione nei 12 quartieri nel municipio di monte cicardo e in altre sedi del territorio formando 10 persone a seduta per un totale di 250 cittadini volontari nelle prossime settimane saranno comunicate le modalità di partecipazione alle lezioni e per informazioni potete inviare una mail a cardiopolitana chiocciola le strade di luca.it ed ora una comunicazione da marche multiservizi nella mattinata di oggi per cause ancora in corso di accertamento un veicolo adibito al trasporto di rifiuti non di proprietà di marche multiservizi ma diretto alla discarica di ca a sprete ha perso il controllo ed è finito nella scarpata di strada del pantano nell'incidente non è stato coinvolto alcun altro mezzo ma la viabilità è stata interrotta per alcune ore a causa del carico che ha invaso l'intera carreggiata marche multiservizi pur non avendo alcun diretto coinvolgimento con il fatto accaduto si è prontamente attivata ed ha prestato il supporto necessario per le operazioni di ripristino e pulizia della carreggiata è stato richiesto l'intervento della polizia locale dei vigili del fuoco e dell'arpan per effettuare tutte le verifiche del caso e cambiamo argomento l'intera giunta regionale ha espresso questa mattina cordoglio per l'improvvisa scomparsa l'età di 53 anni di andrea merloni imprenditore famoso a livello nazionale di origine fabrianese merloni aveva un rapporto molto saldo con la città di pesaro essendo stato presidente per quasi dieci anni della benelli moto ed è stata purtroppo ufficialmente annullata la 44esima edizione del cartoceto dop festival mostra mercato dell'olio e dell'oliva una decisione sofferta ma obbligata a causa delle disposizioni dell'ultimo dpcm a parlarcene nella prossima intervista è il sindaco di cartoceto enrico rossi le nuove misure di prevenzione di contenimento dell'emergenza sanitaria da covid 19 hanno purtroppo falcidiato anche l'evento cartoceto dopil festival alla 44esima edizione della mostra mercato dell'olio e dell'oliva una disposizione quella contenuta nell'ultimo dpcm che sospende tutte le fiere di qualsiasi genere e portata sicuramente di responsabilità una scelta opportuna alla luce di quello che è il quadro epidemiologico attuale ma sicuramente come in tanti altri casi analoghi dannosa per le realtà economiche territoriali coinvolte un danno che interessa in primis i produttori le aziende agricole e le aziende olivicole del territorio protagoniste di questa eccellenza unica nella sua qualità a livello regionale ma ovviamente un danno che si ripercuote poi anche su quelle attività economiche legate in qualche modo all'accoglienza alla ristorazione non dimentichiamo che insomma questo evento richiama ogni anno a cartoceto un pubblico numeroso e soprattutto variegato per per provenienza abbiamo investito molto in questi ultimi anni nell'organizzazione di questo di questo evento un po un pilastro fondante di quello che strategicamente abbiamo voluto rivedere come percorso di promozione di valorizzazione del territorio è chiaro quindi che occorrerà quest'anno rivedere alcune misure di sostegno quindi di valorizzazione di questa meravigliosa eccellenza che la nostra terra ha voluto regalarci e devo dire che in questo in questo senso c'è stata anche un'interlocuzione abbastanza continua con i produttori aderenti al consorzio di tutela proprio perché bypassando quello che purtroppo è il momento del festival è possibile quest'anno prenotare e poi ritirare direttamente nelle aziende agricole l'olio DOP cartoceto trovate tutte quelle che sono le informazioni utili sia nella pagina facebook della pro loco di cartoceto nella pagina facebook cartoceto turismo così come sul sito pro loco cartoceto puntocom un piano sicuramente diretto alternativo finalizzato comunque a stringere un rapporto diretto per l'appunto tra il produttore e il consumatore finale d'altronde la organizzazione si stava mettendo in moto nonostante le evidenti difficoltà però poi quello che è stato l'evoluzione del quadro epidemiologico ha fatto sì che insomma d'accordo con la pro loco cartoceto e con il consorzio di tutela arrivassimo per l'appunto alla decisione di annullare la 44esima edizione della mostra mercato dell'oliva cartoceto dopo il festival e in chiusura andiamo a parlare dello sport con due notizie flash perché la Carpegna Prosciutto Basket ha comunicato che nel gruppo squadra è stato riscontrato un altro caso positivo al covid-19 completamente asintomatico il giocatore si trova in isolamento e sono già state applicate le misure del protocollo in corso anche la vispesaro ha comunicato che un componente del gruppo squadra è risultato positivo al virus al termine dell'elaborazione dei tamponi effettuati lunedì 9 novembre il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio e domani la squadra e lo staff si sottoporranno ad un nuovo giro di tamponi come da protocollo della lega pro e in vista della gara di programmazione alle 18 e 30 vispesaro cesena e allora in bocca al lupo e speriamo davvero di sconfiggere il prima possibile questo virus intanto vi ricordiamo la prima serata di questa sera su Rossini tv ci stacchiamo un attimo la nostra mente dalle problematiche quotidiane cerchiamo di immergersi per quello che si può nel clima natalizio e allora questa sera le 21 e 15 vi facciamo immergere appunto nella magia del natale tutte le novità al garden center frorio di pesaro in replica alle 22 e 30 e poi una comunicazione di servizio perché il lunedì parte un nuovo programma su Rossini tv si chiama casa Rossini sarà un programma in diretta per tenervi compagnia la mattina poi chiaramente sarà replicato il pomeriggio ma anche la sera ma è un programma che nasce proprio per tenervi compagnia la mattina parleremo di tanti argomenti dall'attualità la cronaca avremo tanti ospiti con noi in studio tutto in diretta e voi sarete e potrete essere i protagonisti intanto vi faccio vedere questo promo è quasi tutto pronto questo è il salotto di casa Rossini ogni lunedì mercoledì venerdì alle 10 in diretta su Rossini tv rubriche ospiti in studio e naturalmente aspetto anche le vostre chiamate i messaggi le vostre telefonate le vostre video dediche cala Rossini dal 16 novembre alle 10 su Rossini tv e questa è davvero la nostra casa poi vedrete il set anche un po diverso migliorato vedrete che vi faremo immergere proprio nel salotto di casa nostra praticamente a partire da lunedì alle ore 10 io vi ringrazio come sempre per averci seguito l'informazione torna domani mattina in diretta con la nostra rassegna stampa buona serata 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 stampa buona serata